Signori, questo è Amanda TheAventurer, è un gioco horror. Ok, allora, Riley, se stai leggendo questo messaggio significa che non mi vedrai più. Questa lettera ha due scopi, salutarti e lasciarti in verità la mia casa. Quando te lo sentirai, in soffitta c'è qualcosa che devo lasciarti. Cerca una videocassetta, ma sappi che una volta guardata non si torna indietro. Stami bene, tesoro. Zia Kate. Quindi una volta che guardiamo la videocassetta, morti. Bellino! Però c'è la freccetta con gli occhietti, è bellissima. No, ok, questo è un enigma, quindi no, perché ci sono le lancette da sistemare. Questa è una cassaforte, quindi senza il codice lo si può fare, però magari il codice lo troviamo. Anche questo dobbiamo aggiungere i minuti, io ho le ore, quindi no. Dobbiamo guardare la videocassetta, ragazzi, eh. Sono Wooly. Oggi faremo una torta di mele. Qual è il tuo tipo di torta preferito? Al limone. Mmm, sembra deliziosa. Oggi faremo una torta di mele. Sai cosa possiamo usare per tagliare le mele? Il coltello. Ottimo lavoro! Possiamo usare un coltello affilato. Riesce a sentire l'odore di mele e della cannella. È ora di cucinare una torta. La prima cosa, preriscalda il forno a 400 gradi. 425 gradi! La nostra torta è pronta, non vedo l'ora di mangiarla. Ma ho fatto tutto da sola! Ragazzi, ma le cose hanno cambiato a posto, impressionante. Raga, è successo qualcosa! È cambiata la stanza. Devi fare la torta. Ok. Le mele ce le ho. Prima devo tagliarle le mele. Per tagliare le mele mi serve il coltello. Ah, non la posso più levare. Ho fatto la torta di mele e pesche. Vabbè. Ok, scusami! Minchia! Non l'ho fatto a posto, eh! Stai calmino! Scusa, è solo la mela. Tieni. Qui, poi. Lei diceva 40 minuti. A 425 gradi. Questo. What the fuck? Ma era una torta! Io sono Amanda e io sono Wooly. Cosa ti piace di più del tuo quartiere? Ehm... Fantastico! C'è un'impronta di un tizio morto! C'è una sagoma! Devo andare al negozio per comprare un biglietto. Fantastico! Voglio comprare un dolcetto speciale alla mia amica. Ok, quindi la bakery. Hanno tutti un profumo delizioso. Tipo d'ora all'esploratrice, sì. Voglio comprare dei... Che cazzo è successo, Amanda? Sembrano così buoni. Abbiamo solo un'altra fermata. Il pacco è pronto per la mia amica. Andiamo alle poste. Chi è il destilatero del pacco? No, non si chiama così. Io non mi ricordo il nome. Devi sapere il suo nome. Non mi ricordo! Picello! Ho scritto Picello! Ho scritto Kate! Volevo scrivere Picello. Mi ha scritto Kate da solo. Ma no, no, no. Non volevo scrivere Kate io. Certificato Kate. Ah, vedi? Qua c'è il nome della picciotta. Kate Park. Vabbè, sono i passi di genitori perché è scomparso il fratello. Eh, mi sa di sì, raga. Quindi era una ragazza che aveva creato un programma televisivo, che era questo qua di Amanda. E diceva che questo programma lo potevano guardare le famiglie con i bambini. Ah, quindi Jordan guardava questa roba in televisione e Jordan impazzì e scomparve ed era come se quella ragazza gli stesse parlando. Diceva quelle cose stranissime. Semplicemente non vogliono affrontare la verità. Che qui c'è qualcosa di veramente malvagio. Possiamo incontrarci per parlare. Non voglio scrivere altro qui. Mi sento come se qualcuno mi osservasse. Cordiali saluti. Joan Co. Ah! È inquietante. Sì, sì, sì. Era la trasmissione. Quindi è d'ora l'esplodatrice, però versione horror. Allora, C. B. F. Ah, ok. Allora, ecco, ho scritto là. Oh, no. Cosa, oh, no? Amanda? Wooly, oh, sei tu. Qualunque cosa tu faccia, nonno. Alle 3.45 di questo pomeriggio stavamo giocando e Wooly è inciampato ed è caduto. Io nonno. Dove ti sembra che Wooly si sia fatto male? No, ragazzi. Wooly si è fatto male al ginocchio. Chi può aiutarti quando hai male da qualche parte? Dottore. Non credo che possa aiutarci. Medicina. Perché sei... Che cazzo vuoi? Che cazzo è successo? Amanda, stai calma. Voglio perdere te. Stai calma, compara, tranquilla. Medico. Portiamo Wooly in ospedale per farlo vedere da un medico. Forza, curiamo Wooly. Ci passi sotto. Ok. Woody è già morto. Woody è un uomo morto. È una capra morta. È una capra morta, Woody. 3.45. Allora, le 3.45. Ok. Che succede? Ora esplode qualcosa. Vabbè, quello come minimo sicuro. Oh, oh. 3.45. Avrò non visto di nuovo qualcosa nella cassetta. Sì, ma qua sono le... Come on! Let's get... Allora, aspetta. 6.20. 22.50. No, scusami. 22.50 qua. Non lo posso mettere 22. Ok. Eh, abbiamo cercato... Ah, questo l'orologio. Questo, questo. 6. Ho visto adesso a muro. Dovevo fare il giro al contrario. Vabbè. Ok. 6.20. No, però, perché ha messo 5? Segno avunque alle 5.4. What? Tic tac, tic tac. L'esate scorso è divenuto palese che la sua serie pubblica Amanda L'Avventurosa e la protagonista del titolo erano qualcosa di molto speciale. Tutto iniziato con la figlia. Trovato la lancetta. 5 e un quarto. No. No, non è 5 e un quarto. Ah, hai ragione. Ho messo la lancetta delle ore in quella dei minuti. Ho invertito le lancette. Bravo. Non ci ho fatto caso. Non stavo guardando la grandezza delle lancette. Cassaforte. 8, 2, 6. Ciao di nuovo. Io sono Amanda. E io sono Wully. Cos'è quell'odore? Non ho mai sentito niente del genere. Hai ragione. È un cattivo odore. Questo panino puzza perché marcio. Ma che cazzo vi mangiate? La merda. Anche questo tronco d'albero sta marciando. Sai perché? Le cose marciscono quando non sono più vive. Il tronco dell'albero è morto. Morto è il controllo di vivo. Ottimo lavoro. Anche gli animali possono morire in molti modi diversi. Guarda quel povero signor volpe. È morto. Sta marcendo. Cosa pensi l'abbia ucciso? Tu, Amanda, di merda. La pistola? Il coltello? Le bacche velenose? Amanda, secondo me sei stato tu con la pistola. Però non voglio essere sincera e onesta. Amanda, non c'è niente di marcio qui. Cosa pensi? Pensi che tutto marcisca? Certo che no, Amanda. Non lo sto chiedendo a te. Risponde alla mia domanda. Non devi rispondere per forza. Amanda, perché non rispondi alla mia domanda? Devi dirmelo. È un po' bipolare la signora. C'ha il ciclo, Amanda. Amanda? Non vuoi fare amicizia con me? Per favore, rispondi alla mia domanda. Sì? Penso che potrebbe essere troppo tardi. Sono morta. Era Amanda quella. Amanda? Ma è finito? È ricominciato da capo? Penso che debba mettere il pin nella cassaforte. Qual era il codice, ragazzi? 826. 8 2 6 Ok, ci sta il foglio che va messo qua. E poi ci sta un pulsantino. È quello del nostro amico, mi sembra. No, non è quello del nostro amico. Però sembra un pulsante, tipo il pulsante di pausa. Non è quello del nostro amico? Ah no, è il pulsante di pausa della videocassetta. Quindi noi abbiamo che ogni simbolo corrisponde a un colore. Però patata che colore è? Patata non ce l'ha... Patata è il colore luna. Vabbè, comunque. C'è il cerchio, c'ha il rosso, quindi arancione e così via. Quindi ogni colore... Boh, vediamo. Vedremo. Aspetta, hai ragione. Facciamo la torta come dice di farlo Udi, perché lui dice a me piacciono le pesche. Però questa è la gradazione giusta. Se lo metto al massimo? Se lo metto così? Raga! La cassetta dorata! Vai! Raga! Raga! Grazie a tutti.